Eccolo qua, ecco qua. Vedi, quando c'è i provvisori è possibile che si crea spazio durante la guarigione. Questo spazio è fisiologico dovuto alla guarigione dei tessuti. Quando i tessuti guariscono, si ritraggono. Poi questa zona noi la andiamo a chiudere nelle protesi definitive, ma in quella zona è il momento di usare lo scovolino e tenere il colletto, non è neanche l'impianto quello che vedete grigio, questo qua è la connessione che poi si avviterà dentro all'impianto, quella poi va buttata, però tenetela lucida. Se si scopre qualcosa di grigio è meglio perché lo potete lucidare. Per esempio negli impianti zigomatici è frequentissimo che la gengiva va su e scopre la parte lucida anche dell'impianto. È un problema? No. È meglio perché può, la gengiva si è scostata e può pulire e lucidare, tenere pulito. La superficie dell'impianto in titanio lucido è sicuramente più facile da pulire del composito o della ceramica. È molto facile lucidarlo, solamente con lo spazzolino, se ci vai tutti i giorni quello non avrà mai problemi lì. Tenete conto che queste protesi sono un compromesso a una situazione grave, dove il paziente ha perduto tutta la bocca, tutta la dentatura. Avere queste zone di connessione dell'artificiale al naturale è fondamentale per poi fare il mantenimento. Tanto quando sorridi quella zona non si scopre, ma quando in intimità va a fare l'igiene lì è molto più facile mantenere, perché c'è la zona scoperta del colletto dell'abatment, non è l'impianto, è l'abatment quello che si vede. Vediamo se trovo un'altra foto, per esempio, di retrazione. Questo dopo la guarigione, durante la guarigione. Ecco qua, ecco, ecco qua, qua si vede che c'è ancora i punti, vedi? Qua è fresca, ci avrà massimo 10 giorni, 2 settimane, i tessuti si sono sgonfiati, aveva la protesi prima che pigiava sui tessuti, i tessuti sono sgonfiati, ora si è creato lo spazio. Il paziente chiama all'armato, a me si è creato uno spazio, sto perdendo gli impianti. No, sono le gengive che si sono sgonfiate. Lì? Sì, quasi sempre, quasi sempre, 90% delle volte. In quella zona bisogna usare lo spazzolino morbido e gli scovolini.